Eeeh! 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 Ehi, ma qui ci siamo! Il nostro principal videomercial di ogni notte, qui a Vince! Ai comandi della consola, il nostro Gianni Matucci e la voce di Roberto Bruzza! Come di sabato notte, il locale è pieno di donne! Come di sabato notte, il locale è pieno di donne! voglio sentire la voce delle donne e domani tutti su Facebook a vedere il video di questa notte e tra poco la nostra Marica Valdini salirà con noi con sale